Quei tratti. Tu sei falsa, perché sotto quei tratti da agnellino c'è molta durezza. Avevo sempre detto alla mia compagna, la mattina del funerale del figlio avuto con l'ex marito, lei chiede il mio aiuto per rendere presentabile il cadavere del figlio. Io quel tipo di toletta l'avevo fatta per mia madre e per mio padre. L'aiutai, ma non è cosa da poco. Afferrai il cadavere per le ascelle e lo tenni sollevato mentre la madre gli toglieva calzoni e mutande con un colpo solo. Lavoravamo mentre lei piangeva. Poi il dolore le fece lo sgambetto e lei si piegò, quasi cadde sul cadavere nudo del figlio. Che c'era da dire? Niente, che si scusa al dolore della mia compagna per quello che avevo pensato di lei.